Mamma mia come l'aveva fatto inferocire! Ragazzi, come voleva afferrarlo! Ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuava il suo gioco. Durante questa dura lotta Pierino fece un nodo scorsoio alla corda e la calò giù del ramo con mille precauzioni. Infilò il cappio alla coda del lupo e tirò con tutte le sue forze, poi legò l'altro capo della corda all'albero e il lupo si trovò appeso come un salame. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente cercando di liberarsi. E più il lupo saltava, più stringeva il nodo scorsoio. Il lupo saltava, più stringeva il lupo non è rimasta.